E' a retino uno dei 50 spumanti più buoni del mondo. Le bollicine sono quelle della Baracchi Winery, l'attestato conquistato, e quello della prestigiosa rivista Wine Pleasure, che riconosce il metodo classico Brut Rosé millesimato come uno dei 50 spumanti più buoni al mondo. A giudicare il vino prodotto da Riccardo Baracchi, nella splendida tenuta di Cortone, è stato un team di esperti degustatori, che per sillare l'attesa classifica ha assaggiato bollicine provenienti da Argentina, Austria, Australia, Brasile, Cile, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia, Sudafrica e Spagna, cercando così di valutare gli aspetti più caratteristici di ogni prodotto. Oggi c'è grande qualità in generale. Io amerei e direi che le piccole aziende oggi danno dei prodotti di qualità con una ricerca nella qualità che è incredibile. Sì, ecco, oggi una piccola e media azienda danno dei prodotti che sono veramente meravigliosi, unici. La tradizione è tanta esperienza che va abbinata alle nuove tecnologie. L'una non cambia l'altra. La grande qualità e la cultura di oggi, attaccata alle cose forse più antiche di una volta in agricoltura, si ottene il massimo della qualità.